Quanto conta la qualità della vita nella scelta della terapia e il ruolo del caregiver, del familiare, dell'amico? La qualità della vita ha un peso enorme nella scelta della terapia. Questo anche e soprattutto per il paziente. Il paziente con leucemia linfatica cronica è un paziente che abbiamo detto mediamente anziano, però abbiamo anche dei pazienti giovani. Quindi la qualità della vita è sicuramente più importante o molto importante nel paziente giovane. È un paziente che ha una lunga aspettativa di vita di fronte a sé, è un paziente che vuole vivere, magari ha dei figli da crescere e ancora dei progetti che vuole portare avanti. Quindi una delle prime domande che il paziente fa quando gli si propone una terapia è se questa terapia andrà a impattare in modo importante sulla sua vita. Si potrà continuare con il suo lavoro, con i suoi progetti, si potrà viaggiare. Quindi nella scelta terapeutica la qualità della vita è sicuramente importante. Nel paziente anziano è molto importante anche il ruolo del caregiver. Questo perché? Perché il paziente anziano è un paziente che spesso non è completamente autosufficiente. Un paziente che per esempio deve essere accompagnato in ospedale è un paziente che ha bisogno di una supervisione nell'assunzione per esempio dei farmaci sia chemioterapici sia di questi novel agents o comunque di tutti quei farmaci che sono complementari alla chemioimmunoterapia e che quindi sono necessari affinché vengano ridotti al minimo gli effetti collaterali e le possibili complicanze.